Siamo con Michele Marcucci dell'Enoteca, scuola guida sulla neve per andare a Identità Golosa. Il primo segreto è andarci, partire e non cagarsi addosso, avere una macchina con le gomme termiche, leggera, quattro ruote motrici, saper guidare, questi sono i segreti, frenare, accelerare, mai, non pensare alla Kelly. Se succede un problema come direbbe Kelly? Non pensare. Non pensare, non pensare. E basta. Poi se volete dopo vi racconto la storia della partita DNA. Ci vuole la terza versione. Te la faccio dire. E la tua versione qual è? Ma io sapevo che il signor Bartoli era dei biglietti da poco per i suoi amici, poi io non so altro. Ma la colpa allora, secondo te, è di Basetto o di Bartoli? Di Bartoli, sempre di Bartoli, perché voleva dei biglietti, dei posticini comodi a poco. Il povero Basetti ha trovato dei posticini gratis e lui, il signor Bartoli, si lamenta che era nella cuccia del cane. Ma il vino chi se l'è bevuto? Basetto. Ma il Bartoli è più comunemente conosciuto come? No, una cara a digelo. Una cara a digelo. N.A. Proviamo N.A. N.A. C'è anche la spiaggia, eh? Cosa vuol dire la spiaggia? Ah, c'è la spiaggia personale. N.A. Beach. E tra poco ci sarà N.A. Bar.